Letizia Moratti, perché l'Inter non resta a Siro e il Milan va a Sesto? Lo stadio di San Siro? Ma perché non pensare che resti all'Inter e il Milan vada a costruire un nuovo stadio per esempio a Sesto? Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo Polo. L'ex sindaco di Milano si inserisce così nella lunga cherel sul progetto infrastrutturale dei due club della città. Che sono sempre in attesa dell'ok definitivo da parte del comune e che devono fare i conti con il rischio di uno stop alla demolizione di San Siro da parte della soprintendenza. Proprio nei giorni scorsi la giunta comunale guidata da Beppe Sala, con una delibera, ha comunicato che interpellerà gli enti competenti sulla possibilità che il miazza venga ricondotto alla categoria dei beni pubblici vincolati. Inter e Milan, intanto, devono recepire nel progetto le indicazioni del dibattito pubblico aggiornando lo studio di fattibilità, il 50% di spazio verde nell'area coinvolta. L'incremento della capienza a 70.000 posti e il blocco dei prezzi dei biglietti per scongiurare gli aumenti dei costi per i tifosi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il dossier conclusivo del dibattito pubblico per chiudere l'iter, ma la strada è ancora molto lunga.